Dottor Palmieri, oggi ci troviamo a Farindola per una giornata di screening per la prevenzione e la diagnosi dell'osteoporosi. Come mai a Farindola e come nasce questa iniziativa? Sì, oggi siamo a Farindola e sono qui con i miei colleghi dell'ortopedia del reparto di penne, innanzitutto per fare gli auguri di Natale a Farindola e a tutti i pazienti di Farindola che sono sempre molto vicini al nostro ospedale. Siamo qui per creare una sensibilizzazione in materia di osteoporosi. La popolazione di Farindola è una popolazione prevalentemente anziana. Abbiamo portato qui a Farindola nella sala consigliare del comune una macchina che prevede di fare la valutazione dell'osteoporosi e insieme ai colleghi Terenzio e Paolini stiamo oggi visitando i nostri pazienti per dare loro una cura o eventualmente per dare dei consigli in merito alla prevenzione dell'osteoporosi. È un'iniziativa che porterete in giro per altri paesi o si fermerà qui? Guardi, non so se la porteremo in giro per altri paesi o no, noi l'unica cosa che con questa iniziativa vogliamo fare è ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, i medici, i curanti di Farindola che ci hanno inviato i loro pazienti per questa giornata. Quello che vogliamo fare è semplicemente far capire che l'ospedale è vicino al territorio e questo territorio ha tanto bisogno dell'ortopedia e questo è un esempio non vediamo l'ora di poter dare ancora di più in materia ortopedica augurandoci presto di avere il nostro reparto a pieno servizio ma questa iniziativa vuole proprio quello, una sensibilizzazione da parte degli ortopedici nei confronti dell'area vestina che ha sempre dimostrato nei nostri confronti stima e soprattutto affetto.